Questo è il primo di due video dedicati allo stretching avanzato per i corsi di Tawu. Come già scritto in internet, lo stretching avanzato avrebbe eseguito tre volte a settimana, lasciando un giorno di riposo tra una sessione e l'altra. Prima di affrontare la sessione di stretching è importantissimo riscaldare adeguatamente il corpo, quindi questo video è dedicato alla prima parte di riscaldamento. Iniziamo. Piedi uniti, sollevo i talloni salendo sulle punte dei piedi 50 volte. Via! Ciao! Stop! Passo, siccome è giusto, ci fai scuolato, obiettivo è scadario di fronte di meri. Ok? Ok? Ok. 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 Grazie a tutti. Terzo esercizio, sciolgo le caviglie, sospesa l'aria nella gamba londaria, forza la piazza destra. Dieci voti, vieni. Cambio piede. Cambio rosso. Cambio piede. Mi sdraio a terra e vado a ruotare dall'interno all'esterno e dall'esterno all'interno le gambe. Parto con la gamba destra, via. Dieci volte. Cambio gamba. Via. 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 Sto. Un po' di piedi Sempre per scaldare il bacino sulle amole ginocchia davanti e all'esterno Parto con gamba destra, dieci volte Vieni Gamba, gamba, via Stop Vado a estendere la gamba verso avanti tenendo il piede flesso Dieci volte per gamba, li alterniamo Vieni Cerco di far salire bene le ginocchia Stop Ok, ora che le rambi sono calde e anche un po' affaticate È necessario scaldare tutto il resto del corpo facendo un po' di attività cardi 5 minuti di corsa Se ho l'opportunità di uscire all'aperto O comunque di fare una corsa al chiuso Sempre in ambiente per tetto Oppure posso saltare la corda Oppure fare uno schifo benissimo sul posto L'importante è che il ritmo sia sostenuto In modo che io riesca ad avere un bel flettone pesante Per 5 minuti almeno Un po' meno se è la prima volta che vado ad eseguire la sequenza Un po' di più anche se ho già un po' di esperienza Al prossimo video con la sequenza di stretching Zai c'è Zai c'è Zai c'è Grazie a tutti.